Scusa Nico, durante l'intervallo tantissimi corsisti hanno detto che trovano la tua lezione estremamente interessante, il mezzo non l'aiutano e magari aspettano la conclusione. Mille grazie, ci sono angosciato perché non parlo bene l'italiano, quello che presento è interessante per voi, speravo di essere vicino a voi come corpo, che non siamo soltanto intelletto, ok, però cos'è successo? Quello che ho fatto, ho fatto, va bene. No, no, va bene, il mezzo non aiuta, la timidezza c'è, ma mi hanno detto che aspetto, ho già qualche intervento, ho già prenotato, magari quando sto verso la fine. Ok, vediamo queste iniziative che provengono al di fuori delle strutture ufficiali dello Stato greco, dell'Unione Europea, quali sono gli attori che si sono attivati in questo periodo del miracolo, del nuovo patriotismo di solidarietà? Per farvi capire diverse categorie delle persone che sono attivate in questo periodo, trago quello che ha scritto Eutemius, Papa Taxiarchis, lo potete trovare, mi sembra che è libero sulla rete, è pubblicato al giornale scientifico, alla rivista Anthropology Today, il titolo è At the Front Line of the European Refugee Crisis Part One, poi c'è stata una parte seconda, allora lui fa una categorizzazione tripla, divide in tre parti questa categoria di gente che è stata implicata all'aiuto, all'accoglienza e ai gesti di solidarietà. Scrive Papa Taxiarchis che dopo questo aumento dei profughi, dei rifugiati che arrivano sulle isole grecche, nelle isole grecche abbiamo visto l'afflusso anche di, c'è un altro flusso di solidari, solidarians in inglese, ho tradotto solidari, non so se significa qualcosa per voi questa parola, volontari, una seconda categoria dei volontari e la terza categoria sono questi che possiamo chiamare professionisti umanitari, che tutti hanno diverse aspirazioni, diverse motivazioni, ma hanno anche un obiettivo comune di facilitare, di aiutare, di assistere i nuovi arrivati. Papa Taxiarchis, ho detto ieri, è una persona incredibile, aveva fatto la sua ricerca etnografica a Scala si cambiava tanti anni prima della crisi, allora conosceva la gente, è entrato nel campo, sul campo per fare questa ricerca etnografica, vive a Lesbos, insegna all'università di Egeo, al Dipartimento di Antropologia Sociale, un dipartimento misto, storia e antropologia sociale, e questo è un articolo molto conosciuto, molto citato, molto pregiato, intitolato Being There, Part One and Part Two, e farò anche un word dove darò ai corsisti testi in inglese che ho consigliato per fare queste presentazioni. Alla settimana prossima lo farò questo. Allora, vediamo la prima categoria, quello che scrive Papa Taxiarchis sui Solidarias. vediamo una foto con una bandiera di questo tipo di uomini e donne, attivisti, provenienti dall'area più che altro antifa. Tra i nuovi arrivati da diverse parti della Grecia c'è una categoria la cui presenza, scrive, è motivata da forti imperativi ideologici. Ecco, l'ideologia che spinge questa gente a andare, lasciare Atene o altri posti, andare a Lesbos, a Scala Secarniazza, ai campi di detenzione, eccetera. Per i solidari, esserci al posto fa parte di un progetto più o meno utopico. Vogliono creare una collettività autogestita, autorganizzata, costruita sulla base di solidarietà, e quello che si chiama orizzontalità, una parola greca, senza gerarchie, riunendo persone da diversi ambienti per stare accanto ai rifugiati con dignità. E questa è la parola che simbolizza i loro motivi. La loro strategia fa parte del più ampio movimento di solidarietà, che abbiamo visto di crescere in Grecia negli anni dell'austerità, e questi attivisti arrivano a Scala Secarniazza, quasi dall'inizio della crisi, occupano spazi comuni, estendendo così il modello altamente politizzato di solidarietà con i profughi, alla periferia dell'Europa, dove è più necessario, invece di stare ad Atene, vanno alla periferia, ai confini, alla frontiera europea, per dare questo paradigma. «umanesimo», «anthropia» in greco, «non-umanitarismo» e «altruismo», «disinteresse» in questo senso, sono il loro motto, il quadro in cui avanzano alleanze e relazioni con i pochi locali che sostengono il loro progetto. Praticamente pochi locali nativi, nati all'Esbos, e tanti studenti universitari dall'Università di Eceo. Questa è la prima categoria che possiamo vedere in questo periodo della solidarietà agli stranieri. Un'altra categoria sono i volontari, questa più ampia categoria di visitatori. Per loro, per i volontari, la presenza è spesso ridotta a un'agenda più ristretta, sono lì per aiutare chi ha bisogno e questo aiutare, questo aiuto, può essere concepito in vari modi. Un modo di concepire l'aiuto può essere in termini umanitari, come un dovere di compassione verso altri esseri umani, sofferenti, come una risposta a un bisogno. Un'altra concezione dell'aiuto può essere, va come, cioè in termini civici, come ingrediente determinante del dovere civico, spero ispirato, spesso ispirato dalla consapevolezza, che questa tragedia è anche una storia in divenire. Un'altra possibilità di concepire l'aiuto dei volontari viene in termini strettamente religiosi, come imperativo morale, informato da un senso di comunità con Cristo, un'opportunità per predicare la parola di Dio. Le ispirazioni ideologiche che sono alla base del volontariato si trovano sullo stesso continuum di un diffuso mix, e questo è interessante, come la nota questa di Papa Taxiarchis, un continuum di un fisso mix di curiosità e di compassione, che proprio domina le strategie della massa dei turisti volontari che hanno recentemente inondato l'isola. Ecco, è il punto di cui, come vede la situazione, un po' cercando di essere neutrale, una visione neutrale di cosa succede da un scienziato antropologo, o sociologo. La terza categoria può essere chiamata professionali dell'umanitarismo, una professione all'interno delle strutture burocratiche delle organizzazioni umanitarie, alcune delle quali possono, sono anche le grandi organizzazioni, sia quelle dell'ONU, dell'Unione Europea, o delle grandi NGO internazionali, transnazionali, e qui la strategia individuale, dice, scrive Papa Taxiarchis, viene incorporata nella politica dell'organizzazione. L'ideale politico-religioso manca, ed è sostituito dalla ricerca dell'efficienza tecnocratica nella fornitura di aiuti umanitari. Ciò che conta è il completamento con successo della missione umanitaria, indissolubilmente legata alla riproduzione della stessa organizzazione. un'organizzazione umanitare. Questi obiettivi diventano specifici man mano che vengono ridotti a traguardi portanti e tangibili, così ben catturati nella semplice terminologia delle grandi organizzazioni che dominano le riunioni settimanali del coordinamento di queste varie organizzazioni. protezione, questa è la priorità, la protezione, il cibo, il lavaggio, la preparazione per l'inverno. L'umanitarismo come professione assorba gradualmente la seconda parte della seconda categoria che abbiamo visto, che si propone per pataxiarchi, i volontari sono assorbiti in strutture di governo emergenti. Qui potete vedere, non ve lo faccio vedere, qui è un tentativo di visualizzare certo un tipo di attivismo nelle città, nei muri delle città, una pubblicazione alla rivista Entanglements di due Greci che vogliono parlare del displacement and the creation of emplaced activism, public interventions on the walls of a European border city. Hanno fatto anche questo video che segue, che potete vedere come cambia anche la visualizzazione dentro la città di Mithilini. E adesso passiamo a una cosa più triste, dalla solidarietà all'ostilità, dopo l'accordo con la Turchia, la nuova realtà, sia una nuova realtà sia per i locali che per i richiedenti di asilo, da zona di transito, da zona di transito le esole delle leceo sono diventate luoghi di attesa, e questo per un periodo di tempo è definito per la gente che vuole continuare il suo viaggio verso l'Europa. E questa è la seconda fase della crisi dei rifugiati perché la prima abbiamo detto è la fase del nuovo patriotismo di solidarietà, abbiamo visto il video a scala Secamias che segnala a questo primo periodo, anche le iniziative dal basso, il gruppo di Platano, il gruppo del Tutti Insieme che ha preso poi il campo di Picpa quando il Comune e le altre organizzazioni sono ritirate. Allora si conclude questa fase, entriamo in una seconda fase della crisi migratoria che è praticamente segnalata dall'accordo dell'Unione Europea e la Turchia a causa della chiusura del corridoio balcanico che abbiamo visto anche visualizzato in un slide prima. In questa seconda fase della crisi abbiamo sentimenti di ostilità, comportamenti di ostilità nei confronti dei richiedenti d'asilo ma non solo per gli stranieri questa ostilità ma anche per gli attori umanitari, per i volontari, per i solidari e dall'altro c'è un'altra caratteristica e appunto il prolungamento il prolungato intrappolamento dei richiedenti d'asilo nelle isole. Un mio amico che collaboriamo al Dipartimento di Creta di Conomakis che darò anche la pubblicazione. Qui vediamo una foto nel centro di Mitilini che proprio è un raduno una dimostrazione di gente indigena che vuole l'espulsione di tutti gli immigrati tutti i rifugiati dalla isola. Sotto questa luce la luce della crisi le ansie greche per la perdita della possibilità di una perdita della sovranità nazionale la sovranità locale sono state ulteriormente aggravate le ansie dalle regime di supervisione da parte delle istituzioni così come dal loro svolto dalle NGO straniere e dai solidari che impongono la loro presenza nella comunità nelle comunità locali. nella seconda fase possiamo anche segnalare un approccio statale più duro sia nei confronti delle NGO sia nei confronti della gente che vuole dare solidarietà e dignità come abbiamo detto nel gennaio del 2016 faccio un esempio cinque soccorritori marittimi volontari sono stati arrestati e sono stati accusati di traffico di esseri umani illegale per altri reati e nel febbraio del 2016 il governo ha approvato una legge che facilitava il perseguimento delle organizzazioni delle società civili per aver offerto cibo o reparo fuori dai confini legali e l'eliminazione e eradication delle diverse strutture l'ultima parte della mia presentazione si concentrerà su tre temi il primo tema dobbiamo vedere un po' in inglese però certi punti di questo accordo con la Turchia un secondo tema sarà la situazione dei profughi nelle isole e la rivolta che porta o l'accidente che porta all'incendio del campo di Moria la nuova emergenza che si crea sia nell'esole sia al confine di Evros da dove porto anche le fotografie che vediamo i figli spinati la gente che spiegherò cosa è successo un anno prima a marzo del 2020 praticamente sono radunati molti immigrati e rifugiati perché era sparsa la voce in Turchia che il confine sarà la frontiera sarà aperta l'ogreco stato ha risposto vedremo come ha risposto in questa situazione ok vediamo adesso questo questo accordo tra l'European Union Turkey e Turkey 18 marzo del 2016 potete trovarlo in questo link dal Consiglio di Europa l'ho preso qui capiamo che l'Unione Europea è in discussione con la parte turca dal novembre del 2015 per approfondire le relazioni no non approfondire non è la parola giusta for the deepening of the Turkey EU relations anche sulla questione della crisi migratoria Turkey Turkey the European Union reconfirmed their commitment to the implementation of their joint action plan much progress has been achieved already cosa ha fatto la Turchia ha aperto il lavoro di mercato ai siriani proteggendo praticamente questa gente poi scrivono che security efforts by the Turkish Coast Guard and police and information sharing between Turkey and European states the European Union has begun disbursing 3 billion euro for the facility of refugees in Turkey for concrete projects questa è una parte interessante dell'accordo perché in Turchia ci sono adesso mi sembra 3 milioni di siriani che aspettano di vedere cosa succederà nelle loro vite Turchia usa strumentalizza questa popolazione chiedendo dalla Unione Europea soldi soldi che non siamo sicuri che fanno nei campi i quali sono istituiti in Turchia una bomba demografica l'hanno chiamata sì una bomba demografica però 3 milioni di persone sono un numero incredibile speriamo che quando finisce l'ancuera ci sarà un tipo di pacificazione la gente potrà ritornare nelle sue case cosa poi scrive questo accordo Turkey furthermore agreed to accept a rapid return un ritorno rapido degli immigranti che non hanno internazional protection crossing from Turkey into Greece and to take back Turchia prende cioè riceve migranti irregolari ecco e poi prevede anche che la NATO potrà avere un'attività nell'isola nel mare di Igeo per affrontare questa emergenza questo che è interessante che scrive che questo accordo sarà temporario extraordinary is an extraordinary measure non è una cosa che dovrà rimanere all'infinito e poi però vediamo che praticamente niente succede in questo campo migrants not applying for asylum or whose application has been unfounded or inadmissible in accordance with their directive will be returned to Turkey tutti questi che entrano a Lesbos o a Limnos o a Chios che non prendono lo status del rifugiato sono ritornati nella Turchia for every Syrian being returned to Turkey from Greek islands another Syrian will be resettled from Turkey to the EU taking into account the UN vulnerability criteria anche quelli che ricevono lo stato del profugo ritornano però per essere spediti nell'Europa occidentale ok lo leggerete anche tutto il testo se aprite questa pagina su internet vediamo un po' che cosa c'è delle cose sulla implementazione i risultati di questo accordo prima di tutto l'accordo convalida che Turchia è un paese sicuro è una cosa molto strana un safe state perché l'Unione europea non può fare accordi con paesi che non sono sicuri non sono safe states sappiamo che in Turchia c'è una minoranza kurda che viene oppresa c'è un Erdogan che è proprio una figura un po' strana che controlla i mass media che controlla la giustizia e opprime ogni ogni stanza che si mette di fronte criticamente al suo governo allora una prima cosa che dobbiamo avere ma questo è successo anche con la Libia che praticamente non è un paese sicuro è tra una guerra civile proprio succedono cose molto 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 più orrende di quello che succede nelle isole greche o in Turchia abbiamo ascoltato anche racconti quando ero in Italia due o tre anni fa allora questo è il primo punto che dobbiamo tenere Turchia convalidata come un paese sicuro un safe tape che garantisce i diritti umani rispetto alle leggi internazionali sulla protezione dei profughi e degli immigrati ignorando i rapporti e le denunce che sappiamo che sono state scritte da molte organizzazioni internazionali per la violazione dei diritti umani l'accordo del 18 marzo viene annunciato come una misura temporale di emergenza l'abbiamo visto che ormai però dura 5 anni e durerà anche altri 10 anni non lo so quanti una greca studiosa docente di legge Giorgia Spiroppuno nota che stabile rimane la realtà dell'incompetenza dello Stato greco e dell'indifferenza selettiva dell'Unione Europea di gestire la crisi migratoria l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia praticamente prevede una restrizione una cosa che può essere descritta restrizione geografica dei richiedenti di asilo nei posti dove sbarcano nel febbraio del 2020 42.000 richiedenti di asilo vivevano dentro strutture chiuse nelle isole essendo obbligati di rimanere lì fino al completamento dell'esame delle loro domande durante i cinque anni passati dopo l'accordo le condizioni di vita sono peggiorate significativamente a parte le competenze dello Stato greco e della Unione Europea questa situazione può essere vista come una cosciente scelta politica per la prevenzione di nuovi spostamenti verso l'Europa praticamente la restrizione geografica non è inclusa nell'accordo scritto però è attuata cosa vuol dire restrizione geografica vuol dire che gente che entra dalla Turchia via mare sull'isola di Lesbos per esempio lo Stato greco non ha il diritto di trasportare questa gente ad altre strutture nella Grecia centrale non lo so perché la Turchia non li riceve per rispedirli di nuovo ad un paese che ha posti aperti previsti per la loro spostazione e questa è una cosa incredibile perché praticamente i governi greci sia di Sirisa sia il nuovo governo di nuova democrazia praticamente spostano gente però questa gente non può ritornare in Turchia rispetto all'accordo per andare a trovare un'altra sistemazione per esempio in Germania dove la più grande percentuale della gente vuole andare alla fine cioè praticamente tutta l'isola di Lettus diventa un grandissimo campo di concentramento infatti sono migliaia di persone con nuovo governo sono rallentati anche l'esame rallentato l'esame delle richieste e poi ci sono anche delle procedure che non aiutano di avere lo status del profugo per esempio ti chiamano un giorno tu non parli l'inglese parli solo l'iracchiano o la lingua siriana e non c'è un traduttore ufficiale per fare la traduzione allora la tua domanda è respinta e la nuova legge che ha fatto lo Stato greco dice che non puoi riporre la domanda non hai una seconda chance una possibilità di fare di nuovo una domanda perché per esempio mancava l'intreduttore allora vediamo proprio quello che dicevamo ieri la politica sia di Sirisa e duramente adesso più dura adesso con la nuova democrazia è una politica che vuole spargere la voce in queste popolazioni che non venite qui non venite qui perché qui non avrete niente da fare sarete intrappolati in un'isola non potrete andare via non avrete servizi non ci sono posti che potete dormire come umani non avrete non avrete igiene non avrete servizi di pubblica non avete istruzione non avrete niente poi quello che succederà probabilmente sarete riportati in Turchia e poi non si sa cosa vi succederà allora l'implementazione di questa misura della restrizione geografica è stata decisa per motivi politici per evitare appunto i movimenti secondari nell'entrotera greca e verso l'Europa occidentale e perché Turchia non accettava la ricollocazione di gente che era trasferita dalle isole ad altri posti della Grecia come constata la commissione questa è una commissione greca nazionale per i diritti umani i servizi che secondo la legge i servizi che secondo gli standard europei i servizi che secondo la nostra Costituzione che uno Stato deve garantire possono essere considerati da limitati a inesistenti dopo l'accordo con la Turchia i spostamenti verso le isole greche diminuiscono vediamo i numeri sono impressionanti più di 800.000 nel 15 173.000 nel 16 29.000 nel 17 abbiamo visto anche come dopo il 2016 più o meno sui 30.000 arrivano questa diminuzione possiamo capirla soprattutto a causa della minaccia della minaccia che gli immigrati o i rifugiati possono rimanere per un tempo veramente preciso confinati in un'isola da dove è difficile uno di sfuggire devi prendere la nave ma la nave c'è scordata il porto è scordato e non puoi lasciare l'isola gente che vuole entrare in Europa sceglie di rischiare l'ingresso dai confini terrestri di Evros allora cambia il corridoio per l'entrata in Grecia nel 2019 Grecia sarà lo stato membro della comunità dell'Unione Europea che riceverà la maggior parte degli arrivati via terra e mare in parallelo dall'aprile del 16 fino alla fine del febbraio del 20 soltanto e questo è il risultato dell'accordo soltanto 2117 profughi immigrati sono ufficialmente tornati in Turchia per essere poi spediti dove volevano all'Europa occidentale praticamente un accordo che non funziona un accordo che è soltanto per dare risorse economiche nella Turchia per mantenere nel suo territorio gli migranti siriani più che altro e per discoraggiare gente che vuole fare questo viaggio durante gli ultimi anni abbiamo visto anche nel discorso politico cose un po' imbarazzanti si travede una tendenza di collegare la questione migratoria con la pandemia Covid-19 sono tante le pubblicazioni tante le dichiarazioni non mancano dichiarazioni che vedono la presenza di stranieri come una bomba sanitaria in questo nuovo contesto perché anche prima si consideravano che questa gente si considerava una bomba sanitaria un pericolo che minaccia gli indigeni nel luglio del 2019 il ministro del lavoro annuncia che lo stato greco smette di procurare i chiedenti di asilo con la certificazione necessaria per il loro accesso al sistema sanitario pubblico proprio una cosa che nessuno può capire perché l'hanno fatto questo è gente che ha fatto la domanda che è garantita i suoi diritti sono garantiti dalla convenzione di Gineva fino al termine di questa procedura burocratica hanno certi diritti uno dei diritti è l'accesso al sistema della sanità e questo viene negato la reclusione in centri chiusi ed il targeting istituzionale della popolazione dei rifugiati con l'uso di una retorica che dà priorità come diceva Walter ieri alla sicurezza securitization questo è il termine nel jargon europeo praticamente rafforza i sentimenti di certezza di paura è legittima praticamente azioni che sono spesso violente contro gli stranieri costatiamo che i discorsi xenofobi da parte del personale politico e dai media sistemici grandi media televisioni che trasmettono su scala nazionale rafforzano rafforzano gruppi di ultradestra di agire violentemente contro i membri delle NGO e delle agenzie umanitarie ma agire anche violentemente contro soprattutto contro gli stranieri senza nessun controllo statale senza nessun controllo statale abbiamo visto cosa è successo ad Evros e lo vedremo anche con il video che vi faccio vedere adesso perché abbiamo avuto nel 22 di aprile del 2018 un vero e proprio pogrom contro siriani che erano accampati alla piazza centrale a una piazza centrale di Mitiglini facevano una protesta volevano andare via e vedremo cosa è successo spero di riuscire che avete anche il suono dal video è un po' lungo o no no this is not one questo no questo no facciamo un'altra cosa adesso vedete la scritta Mitiglini in greco si 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 ascoltate il suono si sente si sente perfetto si si Grazie a tutti. 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 Abbiamo visto questo pogrom che è successo ad aprile, due anni fa, tre anni fa. Non so cosa posso dire su questo. Praticamente c'è una solita immagine della polizia che dà aiuto a quelli che offendono gente, attaccano gente. È successo anche l'altro ieri a Salonico, vediamo police officers, ufficiali di polizia che parlano con loro, non li arrestano, li lasciano fare quello che fanno e poi piccano la gente che viene attaccata. È una storia che si ripete. È una storia che si ripete. Allora così parliamo del ritorno della xenofobia. A seguito delle proteste organizzate dai residenti di Lesbos e dai rifugiati, dai migranti contro le condizioni nel campo di Moria, il personale delle NGO sta subendo una crescente ostilità da parte di gruppi xenofobi locali. Un altro evento importante per la storia dell'isola è l'evento del sabato 8 marzo, quando scoppia un incendio che distrugge completamente la struttura, una struttura che offriva lezioni di istruzione, di istruzione e seminari a 25.000 rifugiati. Questo centro comunitario si chiamava One Happy Family, si trovava a pochi metri dal centro di accoglienza di Karatepe, che in quel periodo ospitava 1.500 migranti e rifugiati, famiglie e persone vulnerabili. Secondo Refugi Support Idea, potete trovare anche il sito di questa organizzazione. Entro due mesi, dal febbraio al marzo 2020, sono stati segnalati 23 attacchi contro volontari, contro membri di organizzazioni umanitarie, giornalisti, attacchi su infrastrutture nelle isole dell'Egeo orientale. E poi passiamo all'incendio del campo di Moria, l'evacuazione del campo. Sono migliaia di profughi che sono spostati verso la città di Mitilini, vediamo un'immagine. La gente ha perso tutto, le tende, materiale, vestiti, documenti bruciati. Sono stati per giorni sulle strade, che praticamente erano bloccati anche dalla polizia vicino all'altro campo di Karatepe. Un paio di giorni sono costretti a rimanere sulla strada che collega Mitilini a un villaggio che si chiama Mantamatus. Vediamo questo video, ma sembra che ho fatto un errore. Ok, vediamo un po' sulla distruzione. Ok, vediamo un po' sulla distruzione. All'inizio, il nostro paio è alzato di lontano il nostro paio, all'inqueci tassero. All'inizio è distratto, lontano. Vediamo quella stessa, la sospettica sull'automazione. Quello, quando in attrazione, una pallione sono stati, nascendo un po' di 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 un po'. E' un'altra volta che l'abdallah e la sua famiglia è riuscita. 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 Anche lo spot pubblicitario è riuscita. La sua famiglia 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 è riuscita. Anche in questa nuova struttura di carattere. Vediamo una grande foto dall'alto. L'organizzazione funziona anche in Italia. I medici senza frontiere avviano un programma di vaccinazione antitetanica perché ci sono bambini morse da topi in questo nuovo campo. I servizi igienici, le strutture per lavarsi il cibo rimangono inadeguati. Inoltre la vita in tende umida durante i freddi mesi invernali rappresenta un serio rischio per la salute degli abitanti. E poi concludo con la crisi al confine di Evros. Praticamente abbiamo la politica di Erdogan di strumentalizzare la questione migratoria prima per ottenere concessioni dalla parte dell'europea. Più di quei 3 milioni di euro che abbiamo visto. è stato un nuovo accordo che dà altri miliardi in Turchia. Una seconda ragione della politica di Erdogan era che voleva rafforzare la sua posizione all'interno della Turchia riaccendendo i sentimenti nazionalisti. ultimamente c'è l'ultimo per fare pressione sulla Grecia perché ci sono molti temi aperti tra Grecia e Turchia sul mare Geo, sulle scavazioni per fondi energetiche, risorse energetiche eccetera. Il governo greco denuncia la Turchia per aver orchestrato l'invasione di immigrati clandestini e ordina le forze militari di rispingerli dal territorio greco. Quello che vi descrivo, l'anno scorso a marzo, all'inizio del marzo ero con mia moglie a Costantinopolis a Istanbul abbiamo sentito sui telegiornali che qualcosa di grave si succedeva nella frontiera di Evros stavamo in un albergo dove c'era un rifugiato, un immigrato dalla Siria e ci ha detto che il governo turco, la polizia, ha sparso la voce che il confine sarà aperto. Allora cosa facevano? Prendevano la gente e li portavano gratis verso il confine e loro sono trovati però con la frontiera sbarata e hanno praticamente cominciato le proteste, hanno cominciato a buttare pietre, non lo so altre cose, contro i poliziotti greci. Cosa fa la Grecia davanti a questa situazione? Decreta una legge che prevede la sospensione temporanea del diritto di presentare domande per ottenere asilo. Decreta anche il rientro immediato di chi entra illegalmente nel territorio greco senza la registrazione dei chiedenti lo status del profugo. Praticamente adesso e questo dura anche fino ai nostri giorni Grecia sospende la Convenzione di Cinevra del 1951 che è relativa allo status dei rifugiati praticamente violando il diritto internazionale, il principio di protezione dei rifugiati e il diritto d'asilo e il principio di non respingimento che è previsto. Qui possiamo vedere i campi che sono dappertutto la Grecia con il rosso quelli più affolati, con gli altri colori meno affolati e con il bianco ancora meno affolati. Vedete l'eccezione di Creta? Non c'è nessun campo perché qui abbiamo un grande lobby dell'industria turistica che non vuole campo perché se ci sarà un campo a Creta non verranno i turisti allora niente soldi per lo stato greco. Allora questa è la situazione adesso e io voglio ringraziarvi per la vostra attenzione, la vostra cortesa e pazienza e chiudo con un video che ha fatto un immigrato. e così concluderò la mia presentazione e lascio il tempo per voi a fare le domande che volete. Lo vedete? Fra poco parte. Perfetto. Si sente, si sente. Bisagri a te! No, no, no. Sì. No, no, no. No, no, no. This is where we call home And supposed to feel safe and free But down here Things are complicated and tough We don't feel safe And we are not free We are divided by colors Religions, parties And borders With the decision of some of us They can make the lives of thousands of people miserable One signature can destroy people's future It's me Someone who you are calling refugee My ancestors were from Africa My mother was princess of Syria My soul came from Afghanistan And I had born in a small village in Iraq My flesh is here, somewhere in Europe Yes, I am refugee The oceans have tested my blood And roads around the world Know my footprints All my paths lead to a big wall Called the border You may think we are as a Christ In the throat of the world But all the sorrows of the world End in my throat It's not sweet home anymore It feels like a cage Even though life is short But it's like the dark long night Is never going to end It's me It's me A refugee The colors of the sunset Always amazed me They remind me of my village The breeze from the mountains Falling leaves from the mulberry trees And the rain I felt on my cheeks The silence of the snowfall Calming me But it's different When you are living in a refugee camp The sunset is not beautiful anymore It's the beginning of a long, dark night The breeze brings a painful cold The falling leaves Prove a miserable life Passing fast The rain crawls in your tent From everywhere Filling it with water Children Our children look to us With big eyes Red cheeks Their cold hands shivering We are supposed to be their heroes The hardest part of being a refugee Is the uncertainty When you don't know anything about your future And you don't find any reason To survive the next day The next signature Or the next camp The next camp questo Ibrahimi, Ahmad Ibrahimi ha fatto questo video incredibile che in poche parole descrive la situazione che altra gente, altri uomini vive e a me mi somiglia molto al periodo tra le due guerre quando c'erano migliaia di profughi che cercavano di andare via dall'Europa di trovare un posto di vivere fuori da questa situazione creata dai nazisti. L'Europa e l'America, gli Stati Uniti, gli Stati dell'America Latina non hanno riuscito di gestire questa situazione e adesso viviamo la stessa cosa, non possiamo gestire questa crisi umanitaria. Vi ringrazio per la situazione. Siamo noi che ringraziamo te, anche perché tu ci hai fatto vedere quello che noi, come dire, forse girandoci dall'altra parte non vediamo. Il campo che ci hai fatto vedere è identico, Elisabetta che vedo lì, lo sa insomma, voglio dire, il campo di San Ferdinando, a Rossano. Il video nella sua ultima parte era tirato in quel nuovo campo, quel nuovo campo di Karatepe che sono solo tende e sono vicino al mare. Quando piove, quando c'è il vento e la gente proprio si amala lì, viviamo anche nella pandemia Covid, allora la gente non vuole più vivere. Sono sicuro che negli mesi che c'è il nuovo inverno che avrà avremmo gli stessi problemi, c'è proteste, rivolte, rivoluzioni. Sì, sì, ma come dicevo, è la stessa identica fotografia del campo di San Ferdinando a Rossano, che era una baraccopoli fatta con materiali di risulta, con lamiere, è stato un campo visitato da Salvini, ministro degli interni, che ha pensato bene di non smantellarlo perché è funzionale all'economia in nero della zona, anzi ha proposto la soluzione, secondo lui, di trasformare quelle baracche di lamiera nelle stesse tende che tu hai visto, che poi hanno preso fuoco, ci sono morti altre persone, insomma, invece Riace, che era, come dire, la stessa cosa che vedevamo con le tre anziane, con le tre signore, che praticamente hanno fatto quello che ha fatto Mimmo Lucano, esattamente. Vorrei che anche Elisabetta dicesse qualcosa, prima di dare poi la parola ai corsisti che già mi stanno, mi stanno, come dire, pressando. Elisabetta, c'è il microfono. Guardate, secondo me le immagini è quello che ci ha detto Nicos, non aggiungerei altre parole, forse segnalerei che c'è una, rispetto alla situazione della piccola comunità che è questa di scala Sika-Mias. A me sembra che lì abbia partecipato tutto il paese in una forma di solidarietà, come dire, immediata, orizzontale, volontaria, eccetera. Non so se è proprio il paragone più azzeccato, anche se sono delle situazioni che non riesce. però sicuramente ci sono dei punti di contatto. Per quanto riguarda la situazione qui in Calabria, sì, molte delle cose che vedevamo erano simili a quanto accade ogni anno a Rosarno. No, c'è sempre un incendio che a un certo punto spazza via una barra a copoli che continua a vivere nonostante ci siano le tende. Poi vanno a fuoco le tende, si spendono parole di retorica inutile, promesse che non ci saranno. Per quanto riguarda le conclusioni di Nikos, noi non, cioè l'Europa non sa, o noi non sappiamo gestire la crisi migratoria. È un po' come il gioco delle tre carte, perché l'Europa crea la crisi migratoria, forzando i migranti a un lockdown sull'isola, e poi da lì lo scenario è quello che abbiamo visto. Se tu blocchi e metti i turchi a fare da cani da guardia, li paghi anche profumatamente per fare questa operazione. Quindi più che non sappiamo non vogliamo affrontare la questione migratoria, ma questo mi sembra che vada da te. Ultima conclusione, forse ragionando sullo stato invece della sociologia in generale, o degli studi che si occupano di limitazioni, forse allontanarsi un po' dalle scrivanie di ritornare a fare ricerche sul campo sarebbe una cosa. Chiudo qua. Grazie Elisabetta. Walter, il microfono. Apri il microfono. Vedo con la mano alzata, ma invito anche gli altri. Mario Chiaravallotti che ha alzato la mano, ma poi c'era anche Anna Bambara, poi c'era Giannalisa Morelli, ma vedo anche Marcella Albanese, poi Giulio Albanese. Insomma, alzate le mani. Maurizio, scusa. Maurizio è prima. Dopo aver seguito la lezione, ho delle considerazioni. Allora, innanzitutto, io concordo con la dottoressa della corte quando dice che l'Europa non vuole affrontare questa cosa, perché avrebbe, secondo me, avrebbe la possibilità di gestire, ma non lo fa perché è funzionale ad un sistema. secondo, è la mappa che ha fatto vedere il professore, secondo me, evidenzia questo tipo di impostazione di volontà. perché, se accretta, non si possono aprire canti perché va a ledere un interesse economico come quello dell'attruismo, vuol dire che, se c'è la volontà, alcune cose si possono fare. Quindi, uscire dall'ottica che non si possa governare il fenomeno, secondo me, potrebbe aiutare a dire che ci vuole una volontà politica ferma. perché, io concordo quando si diceva che le scene ricordano quelle della Seconda Guerra Mondiale, né più né meno. L'unica differenza è che adesso abbiamo immaginato a colore. Allora, io dico, si proclamano sempre i diritti internazionali, dignità e tutte queste cose, però poi la Grecia sospende il diritto internazionale ed è normale. L'Italia fa accordi con la Libia, dove non solo vengono sospesi i diritti fondamentali dell'uomo, ma vengono perpetrate delle cose assurde. Qua si tratta che o dobbiamo scegliere la politica deve riacquistare il suo ruolo sull'economia. perché, dal mio punto di vista, il problema reale è che, solo questo, la politica è subalterna all'economia. E per l'economia tutto si può fare. Si proclamano i diritti e vengono violati. Di tutto e di più. Ma è uno sfogo più che altro. Diedo scusa. No, di che, figurati, anzi. C'era più. Di nuovo, Marcela. Bambara, mi avevi detto che volevi dopo, Anna, mi senti? Volevi fare un paragone con l'esperienza di Lamezia. Forse può essere interessante. Vai, Marcela. Sì, 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 dopo facciamo. Perfetto. Marcela, vai. Il microfono, Marcela. Ah, no, avevo capito che parlavano. No, io diciamo che avrei due domande. Secondo me è molto difficile da dare una risposta, no? Però mi piacerebbe sentire l'opinione del professore in merito, no? La prima è come cosa ne pensa lui del ruolo di Soros. Ieri l'ha anche nominato nella gestione delle migrazioni, diciamo, specialmente quelli recenti di cui abbiamo parlato. e la seconda è un po' una domanda che faccio al professore, ma io la faccio a me stessa, a tutte le persone che si occupano di migrazione. Nel senso, lo accennava anche Maurizio ieri, no? Nel senso che anche le persone che sono mosse da buoni presupposti per aiutare gli immigranti o il prossimo, no? Ci troviamo nella difficoltà di dire, cioè, come si può gestire questa situazione, no? Se il professore ha una propria idea, no? Nel senso, se sapessimo la risposta di questa domanda fosse troppo facile, no? Io, una mia ce l'ho, nel senso, perché solo prendendo coscienza noi, come singoli cittadini che viviamo in degli stati liberi, possiamo, diciamo, aiutare anche questa tragedia umanitaria, no? Non so se sono stata... Chiarissima. Chiarissima. Grazie. Anna. Allora, buongiorno a tutti. Ciao, Anna. Sono Anna Bambara, lavoro alla Mezzia Terme, che è in provincia di Catanzaro, quindi qui in Calabria. È stato molto bello poter ascoltare questi due giorni anche questa visione rispetto alla gestione, al percorso della migrazione anche in Grecia. E devo dire che, in conclusione, tutto il mondo è paese. Cioè, anche alla Mezzia viviamo, abbiamo, io lavoro con la comunità Progetto Sud, che è impegnata nell'accoglienza e nella migrazione ormai da tanti anni, e viviamo anche noi, diciamo, esperienze sul territorio. Quindi, parlando di la Mezzia, parlo di la Mezzia Terme, di persone che comunque ci hanno offerto solidarietà e vicinanza anche in momenti di difficoltà rispetto alla migrazione sicuramente. Quest'estate abbiamo avuto anche l'esperienza, la richiesta dell'accoglienza di tanti ragazzi che erano sbarcati con positive al Covid, e quindi in Calabria era difficile trovare una struttura che potesse accoglierli. Quindi, devo dire che sulla Mezzia c'è stata la vicinanza anche di tante persone che non solo avevano messo a disposizione gratuitamente la propria struttura, ma comunque si erano rese disponibili ad aiutarci anche con aiuti di vestiti e quant'altro. Quindi, così come ci avete fatto vedere in una parte del percorso questa mattina, anche qua riusciamo a constatare la vicinanza di persone che sono solidali e che ritengono la migrazione come una risorsa e quindi capiscono l'importanza che ha la migrazione stessa per il territorio. Però allo stesso tempo abbiamo vissuto e stiamo vivendo, purtroppo non so, molti di voi conoscono la nostra esperienza, perché noi come Sprar siamo in uno, oggi sai, diciamo, come sai, siamo in un bene confiscato alla mafia e quindi abbiamo avuto tante e tante volte opposizioni da parte della gente locale. Quindi abbiamo anche noi qua una doppia faccia di chi è solidale e accoglie e chi invece si oppone. Nel 2014, come Luna Rossa, che è il nome del nostro slide, si promi Luna Rossa, abbiamo avuto una grossa manifestazione creata da alcuni partiti di centrodestra e poi appoggiata anche da persone comunque che abitavano lì nelle vicinanze e che quindi non vogliono che noi viviamo in questo palazzo che è confiscato. Durante questa manifestazione ci hanno segregati dentro per tantissime ore, un collega migrante, un ragazzo senegalese, doveva uscire perché doveva andare a prendere la figlia a scuola. È stato picchiato, scutato, non vi dico, è stata una giornata veramente pesante. Erano duemila persone, non erano tanti, grazie a Dio alla mezza siamo novantamila. Quindi comunque sono stati poi, non c'è stato, la polizia ci ha chiesto di non fare un muro contro un muro, ma noi ci siamo rimasti chiusi dentro per tante ore, come vi dicevo prima. Si è riusciti poi pian piano con il dialogo ad affrontare la situazione, sono andati via e comunque è stato un momento di tensione e di difficoltà. È vero, ci sono stati i gruppi di centrodestra che si volevano opporre al fatto che noi stavamo accogliendo lì migranti, però allo stesso tempo le famiglie mafiose vicine di casa ne hanno approfittato per chiederci di andare via e lasciare il palazzo. Quindi prima quando vedevo anche le immagini dei video, quando raccontavo le vostre, cioè quello di cui si è parlato, dico tutto il mondo è paese, ovunque si vivono veramente esperienze di accoglienza e di calore, ma allo stesso tempo di distanza, di freddezza e di opposizione purtroppo. La cosa che dico, noi siamo nell'ultimo mese purtroppo nella nostra struttura, ci stanno facendo di nuovo delle intimidazioni mafiose, ci hanno tagliato le gomme perché vogliono che noi andiamo via dal bene, nonostante ci siamo dentro da ben 13 anni, 14 anni, non è un giorno che siamo lì, però cerchiamo di mantenere comunque il nostro impegno a non andare via, così come soprattutto cerchiamo di far sentire ai ragazzi migranti accolti il calore. Vi dico solo questo e poi chiudo perché potremo parlare fino a domani. Nel 2012 ci misero una bomba davanti alla porta, perché comunque era un'intimidazione, i ragazzi erano le 8 di sera, non era nemmeno tardi, i ragazzi di Luna Rossa stavano dormendo, erano ragazzi che erano arrivati dalla Libia anche da poco, era il 2012, quindi era il primo periodo, erano ragazzi che arrivavano dall'Africa subsahariana e un ragazzo quando poi pian piano si calmò disse Io pensavo che le bombe erano solo in Libia, non pensavo che anche alla media terma in Italia scoppiavano le bombe, quindi la cosa che in questo momento è importante è comunque far sentire ai ragazzi che hanno vissuto già esperienze brutte, esperienze traumi, attualmente abbiamo ragazzi che sono arrivati anche dalla Grecia, sono passati dal Pakistan, dal Bangladesh, e fagli sentire il calore dell'andare avanti e di portare avanti il loro progetto migratorio nonostante tutto. Mi fermo qua, altrimenti si va avanti fino a domani. Grazie, grazie per la giornata, per le due giornate di ieri e di oggi e per questa apertura verso la Grecia, sarebbe bello venirli a trovare. Grazie, grazie Anna. Grazie, bello per tutti. Giulia vuole dire qualcosa? Allora, intanto esprimo massima solidarietà a Progetto Sud, ad Anna, a Don Giacomo, stiamo seguendo questo schifoso, continuo, iter di intimidazioni e possiamo solo esprimere solidarietà. A parte tutto con Anna siamo state colleghe, quindi è un piacere. Grazie. Ciao Anna. Allora, io ho fatto una… mentre si parlava facevo un'osservazione, no? E mi sono segnata questa sorta di metafora, come se effettivamente il filo conduttore, un po' di tutto quello che abbiamo visto, sentito, a parte questi video che io ho dovuto chiudere ad un certo punto, sono abbastanza emotiva. Quindi non… cioè, lasciamo stare. Cioè, il filo conduttore per me è il filo spinato. Cioè, il filo spinato proprio come immagine, no? La trincea, la guerra. Cioè, noi nei nostri paesi il filo spinato lo utilizziamo per mandar via i… come si chiamano? Non i maiali, non i maiali, i cinghiali, per mandar via i cinghiali dai terreni perché altrimenti rovinerebbero le coltivazioni. Quindi l'idea di questo filo spinato è del contenimento, un po' legato anche all'intervento che ha fatto il signor Maurizio prima. C'è sempre quest'idea del contenere, della sicurezza che addirittura porta gli stati a violare i diritti internazionali come possono essere quelli sanciti dalla Convenzione di Ginevra. Cioè, è assurdo. E allora, la sovranità degli stati, che fine fa in questo senso? Cioè, se si violano principi come quelli appunto sanciti dalla Convenzione di Ginevra. Cioè, qui non è neanche una questione locale, c'è anche una questione vera e propria internazionale. Cioè, che si deve per forza contenere, assimilare, come dicevamo prima, solo ed esclusivamente per concetti di mera politica economica. E quindi, se Creta può rimanere senza, perché lo vuole Creta, no? Può rimanere senza baraccopoli. No, gli altri posti invece devono essere vessati da situazioni del genere. E poi mi piange il cuore, perché comunque vedere determinate cose e sapere invece che ci sono bellissime realtà, in cui i bambini non stanno dietro i fili spinati, o non stanno dietro le barriere, ma vanno a scuola, sono nei pulmini gialli. È dura, è dura. A volte dico, ma chi mi sogno laureata a fare in scienza del servizio? No, 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 no. No, lo scorreggiamento a volte proprio c'è, perché si sente l'impotenza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cioè, è proprio una cosa emotiva, cioè, di, 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 c'è un'esasperazione a volte, eh, perché ti rendi, ti senti impotente. Però comunque complimenti al professore anche per l'esposizione semplice, chiara, veramente complimenti. Grazie. Grazie, molto. Mille grazie. Adesso c'è Griselda, Griselda Doca, che vuole dirci qualcosa. Sì, salve, buongiorno. Si sente? Perfettamente, vai. Ok. No, consentitemi soltanto, diciamo, un po' di partecipazione emotiva personale. Nel senso, personalmente, è davvero, ho apprezzato tantissimo la lezione, le ore che abbiamo passato insieme. Perché è stato attraverso l'esposizione, ecco, il professore ha fatto parlare semplicemente i fatti e poi il filo conduttore dei ragionamenti e tutto. Quindi è qualcosa di veramente apprezzabile. E poi sono coinvolta emotivamente anche perché, diciamo, l'80% della mia famiglia sono immigrati in Grecia. Io sono albanese, quindi conosco un po' attraverso le narrazioni, sono proprio cresciuta, io ho conosciuto l'Europa attraverso la Grecia. Ecco, però, nella seconda, chiamiamola così, generazione della mia famiglia, la mia scelta poi sull'Italia, per ragioni dell'immaginario che si è creato poi dell'accoglienza in Grecia e così via, perché l'altro ramo della famiglia che invece ha immigrato in Italia ha avuto un'integrazione un po' più veloce, quindi ha consente anche la mia connazionale, credo. Ma insomma, ecco, noi come Balcani siamo stati storicamente un po' così, amici e nemici da una vita e quindi conosciamo anche l'altro lato della medaglia. E poi credo però che in questo momento storico, quindi forse fino agli anni 90, però adesso qualcosa sta cambiando anche da un lato drammaticamente, dall'altro sta crescendo questa consapevolezza di solidarietà anche in quegli stati in cui magari un po' sono stati più xenofobi, meno accoglienti, probabilmente perché sono veramente i fatti che cambiano le persone nel piccolo. Quindi questa è la mia personale opinione, ovviamente, e spero che ci possa essere una nuova visione di accoglienza e di umanità e comunque di convivenza possibile per tutti. Va bene, grazie. C'è qualcun altro, per esempio qualcuno che lavora nei servizi, nelle istituzioni che vuole intervenire, magari per dare una visione un pochino più, un punto di vista diverso, se c'è sempre, se ha voglia di intervenire. Nessuno? Vabbè, allora, come dire, io voglio provare a dire una cosa, poi passerò di nuovo la parola a Elisabetta, poi magari Nico sconcluda perché bisogna tenere presente che da lui sono già le due, quindi… No, no, va bene, tutto a posto. Vuoi dire, è un orario critico. Io volevo dire soltanto una cosa, ma veramente una battuta, cioè noi come Europa, perché la responsabilità è anche nostra, quando abbiamo rifiutato il prestito alla Grecia erano 10 miliardi di Euro, abbiamo regalato ad Erdogan un macellaio, un criminale macellaio, 6 miliardi di Euro e altrettanti ne abbiamo versati in Libia. Questo qui è vero, non è vero quindi che il denaro non ha odore, il denaro ha odore e soprattutto ha il colore del sangue di tutte le persone che muoiono giorno per giorno in quei 10 chilometri di mare, perché sembra veramente una gita che si fa in barca, ma se uno la prova a fare con le motovedette non è più una gita in barca. E invece per noi occidentali, noi Europa, quella che adesso viene piegata dal virus, abbiamo rifiutato alla Grecia e noi siamo debitori come cultura, come radici, non esisteremmo senza la Grecia, abbiamo rifiutato e abbiamo costretto un popolo intero. Questo è veramente toccante, quanto sentivo, perché poi c'erano tutti i resoconti che arrivavano, dell'università che chiudevano, il pane epistemi, il pane epistemi, l'università, l'insieme di tutte le conoscenze che erano costrette a chiudere perché noi negavamo i soldi, cioè è una cosa veramente vergognosa. Adesso invito Elisabetta a raggiungere qualcosa e poi Nico sa concludere se vuole. Io volevo ritornare su un aspetto che Nico aveva sollevato, che era quello che a un certo punto il governo greco toglie il Ministero del Lavoro, se non sbaglio, toglie l'assistenza sanitaria, l'accesso all'assistenza sanitaria. Questo per evidenziare cosa? Per evidenziare che in realtà se si punta solo il dito sull'Europa si fa, ma non abbastanza. Ci sono responsabilità dei governi, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Io ho studiato il piano nazionale asilo quando ancora si chiamava piano nazionale asilo, eravamo nei primi anni del 2000, e là c'erano delle forti lacune. Quindi anche il nostro modo di accogliere risente di questi enormi pregiudizi, della volontà di non voler poi realmente fare l'accoglienza per come dovessero. Solo un esempio, cioè allora nel piano nazionale asilo era previsto l'inserimento, quello che veniva definito l'inserimento socio-economico. Potete capire, ho girato tra Sicilia, Puglia, Calabria, l'inserimento socio-economico dei richiedenti asilo e dei rifugiati, veramente non si poteva parlare. Però nel piano era previsto anche questo. Oppure, che dirvi, mi sono ritrovata in estate caldissima sulla pista di atterraggio di Pali Palese, che era diventato uno dei luoghi dei recinti in cui venivano ammassati i profughi. E lì c'era la voce rossa, eccetera, dovevano appunto decidere chi poteva presentare le domande per il permesso, per la richiesta d'asilo. E ho visto questa scena che ancora mi inquieta, che era quella di persone del Kashmir, che dicevano, è arrivato uno con una lista, dice lei, ah sì, del Kashmir, questo gruppo è del Kashmir, no, voi non potete accedere. E questo poverino, alordito, insieme agli altri, l'ha guardato e ha detto, scusa ma arrivano le bombe sulla mia casa, secondo te posso fare richiesta? Non era nella lista. E chiudo qui. Per non parlarvi delle condizioni disumane in cui venivano tenuti a Bari Palese, così come negli altri centri in Calabria, alla Mezzia Terme, per esempio, dove c'è stato un centro di reclusione dei migranti, che prima invece si occupava dei tossicodipendenti, insomma, è una lunga storia. Quindi, vi ripeto, ci sono responsabilità anche nazionali, forti, dei governi, delle regioni, dei comuni. Quindi auguriamoci che ci siano nuovi spiragli per poter modificare questo orizzonte umano, un po' chiuso. Assolutamente. A te, Nikos. Grazie per gli interventi, grazie a tutti, a tutte, perché c'è solo Maurizio è l'uomo che ha intervenuto e tutte le altre sono donne. Io comincio con quello che ha detto Elisabetta, perché bisogna uscire dai nostri uffici, dalle nostre università e fare lavoro. Questo succede in Grecia. Sono sicuro che succede anche dall'altra parte dell'Europa, succede in Italia. Le università, i docenti, i studenti sono nella prima fila di questo lavoro umanitario. L'abbiamo visto all'Università di Egeo, che praticamente il movimento studentesco lì si è stato, c'è una grande forza a sostenere la gente che veniva, ma anche c'è un osservatorio. Un osservatorio lo potete trovare sull'internet. Un osservatorio che dal 2015 registra tutto. Potete vedere tantissime pubblicazioni in inglese, di gente che viene a Medellini, a Lesbos, per fare ricerca e per essere attivo, gente che sia attiva nei sforzi dei locali per affrontare questa situazione. Poi quello che ha detto Maurizio, sicuramente sono d'accordo e la questione politica è quella che è più importante in questa situazione. Le decisioni che prendono le elite politiche insieme alle elite economiche mondiali. e questa situazione, lo sappiamo bene, non può essere cambiata da un giorno all'altro. Speriamo che la gente spingerà per altre politiche, non solo sulla questione della migrazione, ma anche sulla questione della povertà, della gente che perde il lavoro, della gente che non ha soldi per nutrire i bambini e mandarli alla scuola senza avere lo stigma del povero, la stigmatizzazione del povero. Ma cosa fanno i governi negli ultimi 40 anni, cominciando dagli USA, dagli Stati Uniti, proprio con Nixon e con Reagan, ha cominciato questo discorso sulla sicurezza. Ho visto un documentario sulla piattaforma Netflix che fa questo discorso sulla questione della stigmatizzazione della popolazione afroamericana negli Stati Uniti dagli anni 70 fino ad oggi, il sovraffollamento delle strutture di galera che praticamente non sono pubbliche, sono privatizzate. Alla fine di questo documentario si vede che diverse prese hanno fatto un lobby per spingere a prendere appalti sul sistema di carcerazione. che vediamo per esempio negli USA che c'è un paese che porta in avanti in tutto il mondo, dice che noi siamo la migliore democrazia e andiamo militarmente a imporre la democrazia negli altri paesi. e dentro gli Stati Uniti c'è questo problema con questa minoranza degli afroamericani che sono tarchettati praticamente e attaccati dagli altri, dai governi, che portano questa cultura di priorizzare la sicurità, la security, la parola che possiamo vedere espressa avanti da tutti i politici, dalla Grecia fino agli Stati Uniti, non so dove altro. Vado alla domanda di Marcella sulla questione Soros. Soros è di provenienza ungherese se non sbaglio, è una persona che ha fatto tanti soldi come speculatore nei diversi mercati internazionali finanziari e ha fatto un istituto, un fondo per affiancare, per aiutare la cosiddetta società civile nei paesi dei regimi dell'ex socialismo reale. e praticamente lui lo fa per motivi di tassazione, perché in America se ha un fondo dai soldi si è esonerato da pagare le tasse, però dall'altra parte come oligarca, come un oligarca, fa anche politica, politica sul campo dei diritti umani. secondo me bisogna stare un po' diffidenti quando ascoltiamo queste teorie di cospirazione che gli ebrei, Rothschild, Soros, non so chi altro, hanno un piano per la ristrutturazione del mondo, per la decristianizzazione dell'Europa, che vogliono la restituzione della popolazione dal punto di vista demografico, c'è il bisogno di avere uomini giovani che lavorano per far reggere i sistemi di sicurezza sociale, bisogna stare lontano da queste teorie. La seconda domanda è come possiamo gestire la situazione, non siamo lo stesso consapevoli rispetto alla questione della crisi migratoria e della immigrazione, non abbiamo i governi proprio, le elite economiche, internazionali, le elite politiche, loro hanno il peso di questo che succede. Come possiamo gestirla? Tramite iniziative di gente che vuole essere solidale a queste persone e proprio nel campo politico a cominciare a pensare i motivi che spingono questa gente di andare via. Per esempio i siriani vanno via perché potenze internazionali sono intervenute in questa guerra civile. La Russia, Turchia, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran, tutti avevano da fare dentro la Siria con la gente che voleva libertà e democrazia. Allora bisogna rivedere la questione della pace nel mondo secondo me, bisogna rivedere la questione delle relazioni tra le società umane e l'ambiente perché anche la questione ambientale spinge tanta gente di andare via. Bisogna vedere le politiche che l'International Monetary Fund impone nei paesi del Terzo Mondo o nell'Africa perché c'è una distruzione delle comunità praticamente. la gente non può vivere, ecco, le comunità sono distrutte, l'ambiente è distrutto in tanti paesi dell'Africa. Allora c'è una questione globale, noi possiamo fare quello che possiamo fare come cittadini con le poche risorse che abbiamo a disposizione, però il grande pool di risorse non si trova nelle nostre mani. noi possiamo cambiare anche se ci mettiamo a discutere e proporre alle nostre società altri tipi di soluzioni. poi Griselda, chissà cosa è successo in Grecia negli anni 90, anche Marsella forse, sì, i Balcani è un posto che gli altri europei non possono capire. C'è una mescolazione di nazionalità, di comunità, di religioni. Questo che chiamate voi in Italia quando andate al ristorante è la Macedonia. Avete pensato perché la chiamate Macedonia? Sono tutti frutti, tutti frutti. Ecco, questa è la Macedonia. Geograficamente la Macedonia non è quella greca, ma geograficamente non è soltanto la Macedonia Nord, l'ex Repubblica Jugoslava. Macedonia geograficamente fa parte anche una parte della Bulgaria. Allora i Balcani è una grande questione, per questo ho menzionato ieri le due guerre, che praticamente abbiamo da tutte le parti spazzature, come l'ha detto Marsella, spazzature nazionali, national cleansing, anche dallo stato greco, anche dalla Serbia, anche dalla Bulgaria, anche dagli ottomani. Durante questi anni le forze armate distruggevano, bruciavano, uccidevano gente per pulire, per omogeneizzare il popolo che restava sul territorio. Ecco, è una storia triste. L'altra parte di questa storia è che questi popoli stanno comunicando tra di loro. Cioè abbiamo le stesse abitudini, beviamo lo stesso caffè, il caffè turco. La musica, tutti questi trasferimenti, anche nelle nostre lingue c'è una mescolazione. Ecco, c'è una grande comunità. Quando sono stato l'anno scorso a Costantinopolis, mi sentivo al posto mio. Non tutte le volte, quando vedevo le grandi bandiere turche dappertutto, o le donne con il viso coperto, mi sentivo un po' in difficoltà. Però praticamente condividiamo tante cose tra di noi. Ok, quello che ha detto Walter, l'ho detto anch'io, che le risorse economiche ci sono. Però dove vanno pensate queste risorse economiche? Questa è l'interrogazione. Forse la pandemia ci aiuta però, la pandemia ci aiuta perché poi non hanno più la scusa che non ci sono soldi. Arrivano soldi dappertutto, dovrebbero arrivare. Comunque c'è la disponibilità, ma vediamo. Il caso greco è emblematico. Abbiamo stipulato questi memorandum di austerità, di politiche di austerità. quando il PIL greco era al 120%, cioè il debito era al 120% del PIL greco e adesso siamo al 200%. Non ci sono problemi con i mercati. E' una cosa che nessuno può spiegare. Professore, una cosa approfitto io per dire una cosa su questo, perché nella prima fase la Banca Centrale Europea aveva questa regola per cui non poteva acquistare i titoli dei paesi che avevano un rating troppo basso. e quindi la Grecia paradossalmente rimase fuori dal primo programma di acquisti. Quando serviva acquistare i titoli greci non erano acquistati. E fortunatamente adesso invece, come diceva pure Walter, questa regola è stata rimossa recentissimamente dalla Lagarde. Ha ragione Salvatore. E quindi adesso possono acquistare tutto quello che vogliono perché non c'è più questa regola incredibile che ha negato proprio la Grecia ai fondi. Nel 2010 era una decisione politica proveniente da Merkel e Soible per fare la Grecia un paradigma di cosa succede nei cattivi studenti. Sì sì sì, perché c'è, non so se quanti magari tra gli studenti non lo sanno, esiste nei trattati questa clausola di non salvataggio. Cioè unirne uno. Non è possibile salvare un paese in caso di fallimento, nessuno può intervenire. E quindi ancora noi, nonostante che gli strumenti stanno cambiando per via della pandemia, noi abbiamo ancora questo vincolo che esiste nei trattati e andrà modificato da 27 paesi. E' una cosa piuttosto difficile perché i trattati si modificano solo unanimemente. Unirne uno per educarne 100. Quindi questo rimane, purtroppo sono vincoli che rimangono, anche se è cambiato molto ma ancora siamo felici. Ok, grazie Salvatore. Anche per l'aiuto e tutta... Eh grazie a voi, è stata una ventata di umanità, diciamo, questi due giorni che ci ha travolto, diciamo. Ok, benissimo. Nicolò, che dico? Ok, io vi ringrazio e vi lascio. Grazie a voi. Buona vita, professore. Buona felicità. E lei, anche a lei. Io, come dire, anche a nome di tutti quanti, insomma, ti ringraziamo veramente per la cortesia, per la splendida disponibilità. Come dire, sono ancora una volta di più triste per il fatto di non poter essere stati in presenza, ma, come ti dicevo, probabilmente, speriamo, insomma, vediamo se esiste la possibilità di rimediare tutto ciò. Spero che ci vedremo presto, Walter, Elisabetta e tutti gli altri siete benvenuti. Se venite a Cretta, se venite a Cretta, se venite a Rettim non chiedete il mio telefono da Walter, facciamo delle belle serate e giornate insieme. Perfetto, perfetto. Se venite con le vostre famiglie sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa che volete. Nikos è una persona veramente eccezionale, veramente eccezionale. Sono come tutti gli altri. Ok. Ciao, ciao Elisabetta. Come voi. Siamo, grecci e italiani, una faccia, diciamo in Grecia, una faccia, una razza. Eh, esattamente. E poi non lo dire a me. Eh, tu sei greco, vero? Buona domenica a tutti. Ciao, ciao. A presto. Ciao Nikos. Buona domenica. Ciao Elisabetta. Grazie, grazie. Buona domenica. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Sì, sì. Va bene. Ok, io abbandono. Ciao.